Sistema ripristinato Isolamento iniziato, tutti gli ingressi sigillati Se ho capito bene questi progetti dovresti poter entrare dalle ventole Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Agente Grazie a tutti 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 Ci servono Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Niente Grazie a tutti 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 Grazie a tutti